Ultime ore per presentare le liste in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. C'è chi sta impiegando tutto il tempo a disposizione, c'è invece chi ha già ufficializzato la propria squadra. È il caso ad esempio del Partito Democratico. Per quanto riguarda la Camera, nel Collegio Calabria Nord, in quota proporzionale, Spazio, Enza, Bruno Bossio, Nicodemo Liverio, Maria Pia Funaro e Mario Valente. Nel Collegio Calabria Sud invece, l'assessore regionale Antonio Viscomi, il ministro uscente Marianna Madia, Ernesto Alecci e Giulia Veltri. Al Senato invece, il capolista è il segretario regionale Ernesto Magorno, poi l'ex ministro Maria Carmela Lanzetta, l'ex grillino Sebastiano Barbanti e Anna Maria Cardamone. Nei collegi uninominali invece, alla Camera, i candidati sono Luigi Incarnato, Ferdinando Aiello, Giacomo Mancini, ancora Antonio Viscomi e Nicodemo Liverio, Brunello Censore, Elisabetta Tripodi e Nicodascola. Al Senato invece, Torino Scalzo, Sonia Ferrari, Aquila Villella e Ottavio Amaro. Anche il Movimento 5 Stelle poi ha ufficializzato le proprie candidature, fra conferme e volti nuovi. Al Senato nel proporzionale, capolista Nicola Morra, poi Bianca Laura Granato, Giuseppe Audino, Rosa Silvana Abate. Alla Camera, nel Collegio Nord, ci sono Francesco Forciniti, Elisa Scudellà, Alessandro Melicchio e Luigi Aleone. In quello sud invece, Daila Nesci, Paolo Parentella, Federico Dieni e Riccardo Tucci. Nei collegi uninominali invece, sempre alla Camera, spazio a Massimo Misiti, Francesco Sapia, Anna Lauro Rico, Giuseppe Di Polito, Elisabetta Barbuto, Daila Nesci, Giuseppe Antonio Germanò e Federico Dieni. Al Senato infine, Margherita Corrado, Nicola Morra, Silvia Vono e Bruno Azzerboni.